Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video qua e... devo cambiare il nome, comunque... Giulia 28 Lei, Giulia 28, ha anche un altro canale, Giulia 28 e Angelica 29 Comunque andatemi a seguire su Instagram E andatemi a seguire... Andatemi a seguire su Instagram, laangi987 e su TikTok, laangi, sempre con la Y, laangi098, mi raccomando E invece andatemi a seguire... L'ho già detto L'ho già detto Oggi facciamo... facciamo come si comportano le persone con le migliori amiche Iniziamo Prima Prima Allora, la disperata non fa niente, ho paura Che sei venuta a fare qui? Te ne puoi anche andare? Ciù, la facciamo così veloce perché sennò c'è scritto il mio file, comunque Ciù, la... Indecisa Indecisa Se abbracciarlo o no E se sarei io Ciao Io Ciao L'abbraccio No Sì? Boh Comunque ragazzi, tutto bene con la voce, non fa niente, questo fa un po' schifo Lasciatemi tanti like e iscritti soprattutto anche a lei Perché è piccolina, la lettera lo mettono a brioche Comunque ragazzi, ora non possiamo fare più di nient'altro perché dobbiamo andarcene, dobbiamo... Avete capito già Comunque, da Angie... Dopo cambio il nome e andate a vederlo, eh Da... L'Angi 8 7 6 La Argo La Giul... No, Giulia 28 Giulia 28 Angelica 29 Out 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 Grazie.